Yo people! Bentornati qua con la nostra maratona Sanremo, col terzo episodio, quello più importante, no, quello più importante, no, uno di quei fondamentali, più centrali, perché siamo qua, in questo momento, qua, con questa maratona, dobbiamo andare avanti, perché domani comincia il festival e noi dobbiamo analizzare ancora 9 cantanti, oggi, adesso, e 8, gli ultimi 8 stasera. Spoiler, 8 e mezza, ultimo video, pronti qui sul canale, vi voglio, capito, chiaro il concetto, qui sul canale, e ovviamente iscriviti al canale, attivate le notifiche, perché devi farlo, capito, tu devi farlo, l'ultima volta gli ho detto che dovete farlo, stiamo facendo le faville, andiamo avanti così e aumentiamo, dai raga, comunque dai raga, siamo comunque arrivati al nono cantante in gara, dopo i primi 8 che ho analizzato ieri sera, e domani si preannuncia un inizio festival niente male, e quindi posso soltanto dirvi, devi cominciare con il nono, che io volevo raccontarvi già ieri, ma, data la carattura importante quale ha, non potevo iniziare, cioè, potevo finire con lui, dovevo iniziare con il nuovo episodio. E ragazzi, sapete chi è questo cantante? Lui Tamuri, ultima parizione a Sanremo nel 2000, 2000, cantante di fama internazionale, vincitore di Sanremo con altri cantanti di fama internazionale, cantante conosciuto in tutto il mondo, e anche popolare, stimato, e ovunque voluto bene, si chiama, e ha avuto anche un incidiente dove è ventuno strano, e ancora sa rivoluzionarsi con la musica, si chiama Gianni Morandi! Esatto, lui! La storia della musica italiana, a 77 anni, cosa fa? Ci riprova ancora una volta, vuole far vedere che lui sa rinnovarsi, non soltanto essere un vecchietto e vivere di rendita, no, lui si mette di nuovo in gara, lui si mette ancora in gioco, e con non aprire quella porta, mi pare che si chiami così il brano, giusto? Allora, si riprova ancora, aspetta, si chiama, aspetta che, apri tutte le porte, non apri quella, apri tutte le porte, si riprova ancora una volta e fa vedere che lui forse è un cantante che sta a rinnovarsi negli anni, l'abbiamo visto l'estate scorsa grazie aiutati giovanotti, tanto per dire un nome poco conosciuto con l'allegria, però ragazzi, lui sui social sta sbombando, è un ragazzo che, ragazzo, ragazzo, insomma, ma secondo me ha fatto una rivoluzione artistica che ci sta dando i suoi frutti, perché comunque ci sia gente che, insomma, sono anziani e giovani che lo seguono, capite, non è un vecchietto soltanto così, soltanto per, poi è un nome importantissimo, per se si rilevo dai, lo conosciamo da 50 anni, ha iniziato lì da giovanissimo, ha una carriera lunghissima dietro di sé, secondo me ha ancora molto da dare alla musica italiana, il secondo nome in gara, e secondo me fa Raffa Ville, secondo me, il secondo nome in gara, esordiente, mai sentito prima, si chiama Giovanni Truppi, l'avevo cercato su Instagram, sui social, non ho trovato molte notizie su di lui, se non sbaglio dovrebbe essere un cantante pop, non è un rapper, questo l'ho capito benissimo, e forse cantante pop indie, però non ho notizie da darvi su di lui, cioè potrebbe essere una di quelle nuove notizie, e poi la cosa più divertente è che l'hanno messo non come nuove proposte, cioè l'hanno proposto subito, quindi è conosciuto a qualche parte, ma non so dove, io non l'ho mai sentito sinceramente, sarà che è ancora poco conosciuto tipo un bugo di due anni fa, però non lo so, non mi ispira, secondo me, col suo brano, tuo padre, mia madre, Lucia, sarà abbastanza toccante, però, non lo so, non mi stupisce tanto, invece Gianni Borandi col suo brano, apri tutte le porte, qualcosa di mi mette in mente, spesa o che sia qualcosa di allegro, e non sia una lagna amorosa, e poi vedremo, questa cantante invece ha fatto l'ultima apparizione del 2017 Sanremo, e io non me lo ascoltavo, non me lo aspettavo e non me lo ricordavo, si chiama, conosciuta soprattutto per le sue hit estive, tra cui Shimmy Shimmy, Amore Capoeira, e tanti altri con l'aiuto di Takaji e Ketra, si chiama... Giusy Ferreri! Ragazzi, lei conosce soprattutto per essere una cantante quella che fa canzonzine estive, e basta, mai sentita in altri momenti, invece ho scoperto che fa altri brano, cioè l'ultima brano che ho sentito il suo buono, erano 2.16, e non mi ricordavo, facesse ancora altri album e brani al di fuori dell'estate, infatti non lo fa mai, sembra come quando devi tirare fuori al sarcofago Anamena, senza offese per Anamena, oppure purtroppo rovazzi, nel senso che non si fa sentire in altri momenti, la voce è invidiabile, non puoi dire che non sia così. Poi lei ha cantato anche in un duetto, se non sbaglio, con Roma Bangkok, con Baby K, quindi mi aspetto che abbia rivoluzionato qualcosa, o che ci dia qualcosa di nuovo, e non ne so i che ramazzine o cose estive, perché non è ancora il momento giusto. Quindi, questo brano, vediamo come si chiama, Miele. Mi aspetto qualcosa di allegro, ma anche qualcosa di... Cioè, il miele dolce, già mi fa capire che qualcosa forse di... troppo... forse sentimentale, a parere mio, però vabbè, dettagli. Il prossimo cantante in gara sono due esordienti, High Snob e Who. High Snob e Who. Io, da quello che ho capito, sono tipo dei rapper, o trapper, insomma. Uno, High Snob dovrebbe essere un produttore discografico, che ha fatto canzoni e basi per molti altri cantanti importanti, non vi so a citare chi, perché potete sbagliarmi. E Who, mai sentita, però da quello che ho capito, è una cantante che aveva provato a Sanremo Giovani, è arrivata in finale e aveva perso, quindi è comunque conosciuta, tra virgolette, nel senso che è già avvenuta qua a Sanremo. Duetto importante, secondo me è importante e conosciuto. Col suo brano, Abbi cura di te, questa volta mi fanno capire che non sono dei rapper, oppure con cose toste che fanno vedere la rappresenta, però potrebbero farla appresenta con un brano abbastanza sentimentale. Mi stupisce? No. Mi incuriosisce? No, sinceramente. Però scopriremo come andrà a finire questo. Cantante in gara numero 10, 11, non ricordo. Ultima esperienza, Sarremo nel 2021, in Dad. Già se vi dico in Dad, avete già capito di chi Paolo. Quel cantante che è arrivato quinto, quinto, con grande potenziale, mamma mia che canzone, Irama! Ragazzi, che dopo il 2021, si ripresenta a Sanremo 2022, un po' io lo dovevo il festival, e un po' periscattarsi. Perché, oh, io aspetto ancora il tuo album, Irama, perché io non ho visto nessun album, comunque. E penso che comunque Irama abbia avuto un grandissimo successo, nonostante ne abbia mai cantato. Cioè, la sua canzone ha escorso un successo assurdo, anche più di quella di Annalisa, di Arisa, o di altri cantanti, senza aver partecipato di persona, saremo soltanto con due o tre video. Andiamoci conti di questa cosa, è assurda. Secondo me, Irama, sapete benissimo, che farà praticamente solo esito estivo. Perché? Perché sta facendo un brano e sta aspettando che uscire, faccia uscire il suo album. Secondo me ha fatto bene non farlo uscire l'album l'anno scorso, perché, diciamo che, non avendo potuto cantare dal vivo, non ha potuto esprimersi, ha fatto bene aspettare e riconfermarsi a Sanremo successivo. Comunque, Irama porta sempre brani bellissimi. Già ricordo il brano La ragazza con il cuore di latta, che è del... Questo brano si chiama Ovunque sarai, e lei, lui porta sempre cose sentimentali. La ragazza con il cuore di latta era del 2018-19, non mi ricordo, 19 mi pare. Poi c'è stato, scorso con La genesi del tuo colore, Irama, sei un artista nato. Sanremo e amici sforzano talenti, ovviamente, e si conosce, e si sa benissimo. Sono curioso, spero anche che faccia bene. E prossima cantante di gara, ultima partecipazione nel 2009, molto conosciuta, perché è praticamente una zia, una mamma per molti, e anche nel panorama musica italiano è molto conosciuta per la tradizione, popolata, anche portando il mondo, si chiama Ima Zanicchi. Ragazzi, dai studi dell'isola dei famosi a Sanremo, è un attimo, signori, io sono curioso di sentire, perché da tanto che non la sento cantare, sia soltanto lei che fa la presentatrice oppure la commentatrice, e vorrei vedere, dopo tanto tempo, cosa riesce ancora a sfornarci. Quindi, Ima Zanicchi, ti aspetto per sapere cosa ci porterà a Sanremo, e sono sicuro che la tua voce si incanterà sempre e comunque, perché questa cosa è assurda, e il brano è esplicito, ti fa capire subito che parla d'amore, voglio amarti. Spero che non sia qualcosa di tipo le ballate, o tipo la canzone che ha portato l'anno scorso Rietta, ma sia qualcosa di più innovativo, spero, però comunque, Iva non può decidere nulla sulla sua voce, è assurda. Quindi, posso dire che sono curioso di vedere se porterà qualcosa per rinnovarsi, o rimarrà ancorata alla tradizione, diciamo, dagli anni 70-80, delle ballate che portavi quando sanno facevi i sagri in paese, o quelle che ha portato l'anno scorso gli extra di show, o gli taberti. E quindi, sono curioso di sentirla. Allora, siamo al 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne mancano altri 3. I prossimi cantanti in gara non mi stuzzicano per nulla, non mi è piaciuti sinceramente, però, dobbiamo parlarne. Si chiamano... L'ultima presentazione a Sanremo nel 2021, la rappresentante di Lista! Non mi sono piaciuti, né l'anno scorso, né l'anno precedente. Non so perché continuano a riportarli, dicono che sono persone innovative, e sono cantanti innovative, sono una coppietta di fidanzatini, anche troppo sgaragianti coi vestiti, sinceramente a me non mi stuzzica la loro presenza a Sanremo, e penso di pensarla sempre, cose su questo argomento, e... la rappresentante di Lista, io non so cosa dirvi, sinceramente, cioè, nel senso, non mi stuzzicate per nulla, ma neanche col brano nuovo che ha fatto uscita l'anno scorso con una buona base, cioè, non lo so, non fate nulla di nuovo, né un po' di hype, né niente di gustoso, pare mio personale, quindi il loro brand, ciao ciao, mi fa capire che potrebbe essere qualcosa di divertente, allegro, spero, spero, ovviamente, perché se portate una lagna, come l'anno scorso, non mi piace, cioè, posso dire la verità, l'anno scorso ho ballato sulla loro canzone, però no, mi piace come si esprimono, cioè, secondo me dovrebbe essere più animo, nel senso, fare senso a fargli sgargianti con i vestiti, eccetera, eccetera, poi pare mio personale, potrei anche sbagliare, però, non lo so, sinceramente non mi stuzzicano per nulla, sedicesimo cantante in gara, gruppo musicale, molti partecipatori sono al Sanremo nel 2020, i pin, ah no, scherzavo, non sono i pinguinitati, ci sono piaciuti, magari, le vibrazioni, che, raga, mi hanno stupito nel 2020, devo ammetterlo, le vibrazioni, sono eccentrici, sono pop, non sono dei rapper, non sono dei trapper, sono dei cantanti pop, e altre, alcune volte sono anche fin troppo, innovativi, e forse la loro innovazione non viene conosciuta, è capita da tanti, però, però alcuni brani che fanno sono molto conosciuti già adesso, e ai tempi sono stati conosciuti anche nel 2020, quello che mi hanno fatto uscire, non mi ricordo più qual è però, però mi ricordo che lo cantavo spesso, però si erano piazzati bene, se non sbaglio è undicesimi, quindi secondo me potrebbero piazzarsi bene anche quest'anno, secondo me porteranno un po' di novità, spero, e innovazione, perché si portano delle lagne come gli anni scorsi, in realtà hanno detto che non è, però non mi stuzzicano proprio con personaggi, sinceramente, anche loro sgraggianti con i vestiti, e anche con lo stile, va bene, ma lo stile non è a pile, non va a pile, e non è tutto, soprattutto, quindi ragazzi, con il loro brano, tantissimo, spero possano farci divertire, e non farci sentire dei pezzi, ora prossimo cantante in gara, nono della giornata, aspetta, ne mancano, un, due, tre, quattro, cinque, sette, otto, nove, rullo i tamburi, signore e signori, si chiamano, ve lo dico dopo, perché ho appena visto che sono cantanti molto conosciuti, e li voglio analizzare bene, e quindi, rimaniamo con otto, chiudo il video, e, non lo so, sono abbastanza variegati, ripeto ancora una volta, i cantanti, e quindi, vi dico, chi tardi ci sentiamo ancora, vi farò un'ultima nata, degli ultimi nove cantanti, questa volta vi giuro che sono nove, perché è giusto fare, però non potevo concludere il video precedente con Gianni Morandi, e questo vuol farvi capire come inizierò il video concessivo, lo scoprirete fra cinque ore, però fatemi sapere cosa ne pensate, perché, sono variegati, però alcuni non mi hanno mai stupito, sinceramente, sapremo come andrà a finire domani, cioè, come canteranno alcuni di oro, e, niente, vi aspetto più tardi, e iscrivetevi, perché i sorpresi non sono finite, ciao!